La legge 134 del 2015 prevede delle disposizioni a livello nazionale per quanto riguarda le persone affette da disturbi dello spettro autistico. Queste disposizioni dovevano essere declinate a livello regionale a seconda delle peculiarità del territorio. Peccato che ad oggi nessuna regione abbia disposto una legge regionale specifica per poter far sì che le persone affette da disturbi dello spettro autistico possano essere aiutate, integrate nella società e supportate con tutti i mezzi a disposizione da parte delle sanità regionali. Noi del Movimento 5 Stelle abbiamo raccolto le segnalazioni delle associazioni dei genitori, le necessità dei singoli territori e facendo un lavoro di raccolta di tutto quello che abbiamo portato in regione in questi due anni abbiamo scritto questo progetto di legge che serve proprio a portare sul territorio una omogenizzazione dei servizi a livello regionale cercando anche chiedendo di istituire un fondo specifico per aiutare e integrare nella vita sociale le persone affette appunto da questi disturbi. Ovviamente aspettiamo il contributo di tutti quanti, questo progetto di legge poi verrà discusso nei prossimi mesi sia in Commissione che in Assemblea, aiutateci a migliorarlo. Grazie. 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 Grazie.